Bentornati su questo indispensabile canale, cari carciofini a casa. Oggi per la prima volta su Beauty Ruttini facciamo una review. Che cos'è una review? Una recensione di prodotti che questi nostri amici, che fra un po' vi dico, mi hanno mandato e se pensate che sia un unboxing vi sbagliate perché l'abbiamo già aperto un mese fa. E quindi eccoci finalmente a svelarvi il tesoro. E qua parte la sigla. Cosa c'era in questa box? Ve lo sveleremo oggi. E siccome io la barba non ce l'ho, mi sono fatta aiutare da una persona che qualcuno già conoscerà perché è famoso nelle balere. Benvenuto Giuseppe su questo canale dove noi faremo delle cose insieme sulla tua faccia. Innanzitutto lui è Giuseppe. Piacere. E oggi farà qualcosa che ci darà del dolore forse un pochino a noi amici che non siamo abituati. Lui si taglierà la barba live. Mi darà dolore. E oggi ti farò usare tutti questi prodotti rasatura che sono arrivati, sono ottimi perché ho già utilizzato, su di te. E per la prima volta userai un bel rasoio di sicurezza. Niente, praticamente lo vedrete da così. Quel che è fatto è fatto, eh? Non possiamo tornare indietro, possiamo andare solo avanti dopo questa cosa che abbiamo a fa. Allora, che cosa andremo a usare oggi? Prima di tutto un bello olio pre-barba perché sennò ti asporti la faccia. Quanti mesi che non ti facevi la barba? Forse cinque. Cinque mesi. Quindi dopo cinque mesi la pelle sotto sta un pochino così. E andremo a usare questa linea di Solomon, appunto, alla mandorla amara. Dove c'è un sapone organico che è così e noi andremo a mettere nella ciotolina. Un pre-barba e un dopo-barba. E per la gioia di Giuseppe oggi useremo un bel rasoio. Così. E ora te lo armo io. Nel frattempo che tu ti sbobini tutto quest'olio pre-shave sulla faccia. Tutto? Tutto, così lanciatelo. Tre pompate di quest'olio e te lo massaggi sulla faccia. Così idrati tutto. Ok. Com'è? Buono. Dici le tue sensazioni. Profumato. Olioso. Olioso. E meno male questo che è un olio. Scavicchio il sapone. Ovviamente poi tutti gli ingredienti che ci sono in questi prodotti li trovate sul sito di Solomon. Ma non solo. Io vi metterò tutti i link ai prodotti sotto in info box. Anche tutti i contatti tuoi Giuseppe. Per le amici a casa. Bene, quindi se a casa voi ovviamente non avete una ciotola da montaggio, potete usare una ciotola che usate per le olive. Non sarà assolutamente la stessa cosa. Soprattutto dite a vostra madre che non è cacio ricotta, ma è un sapone da barba che avete messo qui dentro. Eccolo qua. Quindi tu che cosa fai adesso? Vai a montarti il sapone. Come? Bagno nell'acqua. Cosa? Il pennello. Lo devi stringere. Sì. Facciamo un ripasso nelle puntate precedenti. Metti il pennello a bagno almeno 10 minuti nell'acqua calda. Poi lo stringi benissimo. Non deve rimanere neanche una goccia d'acqua perché sennò il sapone si rovina. Poi prendi il pennello, lo giri qua dentro e ne raccogli un po'. Spingi. Non ti preoccupare. Vai, vai. Aggressivo. Perché ti ho preso il pennello di tasso? Perché il pennello di tasso rimane più umido. Poi che si fa? Si ribagna un pochino il pennello così, pling. Ecco. E si inizia a insaponare il viso partendo dal mento. Bene. Ecco, movimenti circolari e andiamo a insaponare tutto il viso. Io nel frattempo per portarci avanti e non farti tagliare le mani mi armo il rasoio. Non mi sta piacendo questo... Io che non riuscivo a chiudere il rasoio. Bene. Voglio aggiungere un po' d'acqua perché la schiuma deve diventare una panna. Basta così? No. Ancora? Sì, guarda. Ora ti faccio vedere la differenza tra una parte e l'altra. Vedi come esce la schiuma? E poi come si fa a far uscire la schiuma dal pennello? Madonna, che tip che sto dando adesso. Gratis, amici. Così. Guarda. Guarda come esce. Eh? Vedi quanta ce n'è? E poi questa te la tieni tutta sul viso. Vedi? Panna. Nel frattempo che tu ti stai radendo quell'altra parte della faccia, da questa parte la schiuma deve rimanere bagnata, bella, spumosa. Perché se no ti tiri la faccia. Questa cosa che io vi insegno a radervi mi piace un sacco. È vergognosa per noi, diciamo. No. Me lo ridai, scusa, mi è caduto. Maestra, vedi a Fabrizio. Ecco. E adesso viene la parte che tutti aspettavamo. Come si usa un rasoio per la prima volta? L'importante è tirarsi la pelle. Quindi come abbiamo detto nell'altro video, si parte dalla basetta e si scende giù. Quindi tiri il misura di basetta e scendi giù nel verso del pelo praticamente. Puoi salutare qualcuno a casa prima? Ecco, puoi anche sciacquarlo. No, lì, qui. Vado sotto? No, perché non hai fatto niente. Non deve rimanere sapone. Ecco, poi andiamo qui. Come ti sembra? Com'è questa sensazione nuova? Pensavo peggio. Visto, tu ti pensavate peggio. Lui è super concentrato perché... Non mi farei danni. Vorrei ricordare che usare i rasoi personali come questo ha anche un vantaggio sull'impatto ambientale perché quello tu poi lo sciacqui, butti solo la lametta e quello è tuo per sempre. No, stavo guardando che era arrivato sul mento già. No? Non dovevo? Sì, sì. No, ma infatti siccome scivola bene... Scivola bene. Perché scivola bene? Perché prima abbiamo applicato il prebarba che serve appunto a idratare bene la pelle, e a schermarla un pochino dal rasoio e a far scivolare meglio la lama. Come si fa il mento? Non lo so. Di meno tu. Tu come andresti sul mento? Io al contrario. Tira, tira. Più tiri la pelle, più il rasoio scivola sulla pelle. E meno ti tagli perché si alza il pelo. Faci così? Non si fa? No, come ho detto che qua... Fai tutte le forme. Ma credo di aver... Io credo di aver... No, perché comunque qui ci sono dei peli, qui ci sono dei peli, qui ci sono dei peli... E perché quella è la parte in ombra. Ah sì, è la parte in ombra? Vedi? Ah, scusa. Beh. Questo è praticamente super... È a te difficile, poi là c'è il piercing. E alcune volte lo tolgo. Ma invece la lasceremo così alla Johnny Depp? Giorni dopo facciamo... Johnny Depp. Non sono contenta neanche una goccia di sangue, non abbiamo dovuto usare neanche il medico qua. Ci acquati il viso. No, vabbè, ha bagnato tutto. Sì? Hai detto a prevalzare. Non mi sono bagnato comunque. No, infatti non ti sei bagnato tu. Ho bagnato te? Ho bagnato tutto il resto. Ah sì? Ok. Bene, e ora andiamo di aftershame. O dopo barba. Questo è in crema. Ed è sempre alla mandorla amare. Manina. Ecco. Te lo massaggi bene su tutto il viso. Per massaggio bene fallo sexy praticamente, proprio. Puoi anche fare... Mentre ti massaggi. Io direi che questo baffo lo dobbiamo un po' aggiustare. Cioè tipo le punte, le cose. E chi lo farà secondo te? Tu. Tu. Bravo, tu. Tu, cioè io. Lo pettini. Bene. E tutto quello che fuoriesce, che non dobbiamo andarlo a girare a manubrio, giusto? Non dobbiamo fare questo. No. No. Lo vogliamo dritto noi. Serio. Serio. E con le forbici. Che guarda, hanno anche la punta arrotondata, eh. Ciao Giovanni. Tu ti vai a fare questo servizio. Ecco tu. Io ci provo. Vediamo se è uguale. I denti. Bene, adesso che abbiamo fatto che hai fatto tutto da solo, siccome ti vedo un po' stanco, io ho qui tutta la linea skin care. Io ho un'idratazione, la pelle un po' la darei. Eh. La fronte, un bel contorno occhi. Si vede che non uso contorno occhi. Vabbè, la crema te la puoi mettere sul viso tranquillamente, te la metterai un po' sulla fronte perché sotto abbiamo messo l'after shave. Ma questa crema, l'absinth defense, è formulata appunto per la pelle dell'uomo. Come vedi, non ti lascia l'effetto lucidino della crema. E adesso ci andiamo a mettere sotto gli occhi un bel contorno occhi energizzante. Contorno occhi, vedi che è in gel. Lo metti sotto gli occhi così e lo tamponi su tutte le borse di occhiaie. Lo senti fresh? Si. E poi per riattivare la circolazione sotto gli occhi si va a fare questo. Oppure si ti schiappeggi perché come fanno quelli esperti. Dai, dici le tue sensazioni. Fresh. Fresh, super fresh. Nella linea skin care appunto c'è anche uno scrub. Bene, direi che abbiamo finito di fare questa impresa titanica di questa domenica. Impressioni. Sento la pelle molto idratata. Provare questo nuovo rasoio, come si chiama? Rasoio. Un'esperienza da rifare. Bene, se questo video vi è piaciuto e soprattutto se volete dare il vostro sostegno maschio al nostro amico Giuseppe trovate tutti i link ai prodotti, qualsiasi cosa vi serva e qualsiasi cosa noi abbiamo usato in questo video e anche di più sotto in descrizione. E noi ci vediamo super idratati, energizzati e sbarbati. Al prossimo Beauty Routini! Grazie. 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 Grazie a tutti.